Continuiamo, anche dopo la festa liturgica di Sampio da Pietrelcina, a riflettere sulle parole che il Papa Francesco ci ha consegnato proprio qui a San Giovanni Rotondo durante la sua visita pastorale del marzo 2018. E continuiamo soffermandoci sulla terza parola. Assieme alla preghiera e alla piccolezza, Papa Francesco ci ha consegnato una terza parola che è la sapienza. Tre parole da far diventare fatti, da far diventare stile quotidiano della nostra vita di credenti. E riflettendo sulla sapienza, che è la sapienza del cuore di Dio, la sapienza di chi si lascia amare da Dio, il Papa disse che Padre Pio ha lottato con questa sapienza contro il male e fu praticamente una lotta fatta con umiltà, obbedienza, con l'amore alla croce e offrendo il dolore per amore. E poi diceva queste parole che ve le voglio proprio lasciare come motivo di riflessione. Appunto riferendosi a questa lotta di Padre Pio e alla sua vita, Papa Francesco disse e tutti ne sono ammirati, ma pochi fanno lo stesso. Tutti ne sono ammirati, ma pochi, a iniziare da me, fanno lo stesso. Tanti parlano bene, ma quanti imitano? Ecco il segreto della santità e dei santi. La vera devozione è imitare, diceva lo stesso Padre Pio. Molti sono disposti a mettere un mi piace sulla pagina dei grandi santi. Ma chi fa come loro? Tanti di noi mettiamo mi piace nella pagina di tanti santi. Io come postulatore delle cause dei santi, lasciatemi passare questo riferimento personale, ricevo spesso richieste di vite dei santi, di preghiere. Qualcuno addirittura chiede reliquie, ma non è possibile dare reliquie ai singoli, alle persone, secondo le norme della Chiesa. Ebbene, mi fa piacere che molti apprezzano, che molti sono colpiti dalla storia di tanti santi o servi di Dio in cammino verso il riconoscimento della Chiesa di santità. Però quanti, come dice il Papa, imitiamo? La vita cristiana non è un mi piace, non è un mi piace, ci dice Papa Francesco. E un mi dono, la vita profuma quando è offerta in dono, diventa insibida quando è tenuta per sé. La vita vera di fede, la vera devozione in questo caso a Pio da Pietrelcina, è quella di trasformare, come Lui ha fatto, la nostra esistenza, piccola o grande che sia, la nostra esistenza con tutti i doni, tutti i carismi che ognuno ha ricevuto, ma anche con tutti i peccati, le proprie debolezze, le proprie fragilità, i propri limiti, trasformarla in dono. La vita cristiana è un donarsi, è un offrire quello che il Signore ci ha donato. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!